Bonnie e Clyde, Eva Kent e Diabolic Nella narrazione cinematografica e dei fumetti, ai gangster o ai ladri, è stata spesso affiancata una donna, per lo più circondata dal mito della sua origine, o meglio, della sua inafferrabilità e immancabilmente della bellezza. Eppure, nella percezione collettiva, oltre il mito femminile, il furfante, il ladro, è uomo. Nei giorni scorsi, in particolare nel fine settimana, la periferia aquilana è stata oggetto di attenzione di una banda, evidentemente organizzata, che in orari tardo-pomeridiani ha messo a segno precisi colpi, in una circostanza anche in presenza dei proprietari. Le immagini che vi proponiamo li mostrano alle 18.30, in un'abitazione della cintura aquilana, e guardate un po', in azione c'è una donna. Non è sola, si muove con due complici, di cui uno con una leggera zoppia, tutti vestiti con scarpe di gomma di marca, abiti sportivi griffati, e come si conviene, con volto semicoperto e cappellino con visiera. Ma il riflesso sulle finestre dell'abitazione, e la leggera disattenzione verso una telecamera di videosorveglianza rende l'immagine di lei molto nitida. Capelli legati, occhi chiari, nasino ben disegnato, corporatura media, gambe snelle e mani delicate, e soprattutto molto curiosa nella cucina dell'abitazione violata. Insomma, una piccola Eva Kent Nostrana, immortalata dalle telecamere e accidentalmente distratta. Chissà se a breve riusciremo a vederle il viso per intero. La sfida è aperta.